siamo arrivati a marzo e siccome il tema di quest'anno è rigeneriamoci con arte ecco qui questa prima parte il dipinto di angeli cacciari e di marinella bortolini questi sono due dipinti fatti molti anni fa per raccontare la garbatella all'epoca non esisteva nessun dipinto e parliamo del 2001 qui poi c'è lei alla quale hanno anche dedicato a un francobollo questo è l'incontro invece dello scorso 8 marzo 2018 con gea copponi con il suo libro giacoponi è una biblioteca era di cerveteri con la quale abbiamo fatto diversi lavori per promuovere la storia delle donne questa invece una garba sorciotta e poi c'è tutto il resto questa è una mostra fatta con floriana mariani questo è un dipinto di luisa maragnani qui risaliamo a circa 20 anni fa questo è un mio messaggio che vi leggerete che cosa faremo a marzo a marzo molto probabilmente faremo il seguito della passeggiata che abbiamo fatto il 24 febbraio però sarà una cosa diversa perché parleremo della garbatella ma della garbatella del perché la garbatella sia stata posizionata in quel posto e perché la scritta un tempo era così e poi la scritta ora è così